Ciao e ben ritrovato da Marcello. In questo consueto appuntamento settimanale, in questo video organizzato in due parti, voglio mettere in evidenza e voglio rappresentarti che cos'è effettivamente la parte di trading estivo e soprattutto la volatilità non direzionale. Perché se hai seguito il video della settimana scorsa, magari il link te lo metto qua sopra, da qualche parte sul video ci sarà il collegamento. Insomma ti consiglio di guardare la parte precedente e poi questa per capire effettivamente di che cosa sto parlando. Naturalmente in queste giornate le opportunità non mancano, però bisogna stare particolarmente attenti e particolarmente pronti ai cosiddetti trappoloni. In questo video voglio metterti in evidenza un po' queste situazioni, metterti a riparo da queste decisioni che puoi prendere in qualsiasi momento, perché chiaramente il mercato ti dà quella parvenza di partire, poi immediatamente si ferma, cambia direzione. Insomma sono situazioni non certo facili per il trader, ma con l'utilizzo degli strumenti giusti, dell'analisi dei volumi, che sai perfettamente che è la mia materia di studio principale, ecco i risultati li puoi ottenere anche in situazioni difficili. Quindi concludo la primissima parte di questo video e ti trasferisco immediatamente grazie ai mitici effetti speciali sul mio desk di lavoro. Eccoci, grazie alla magia e agli effetti speciali delle registrazioni, eccoci ben ritrovato sul mio desk di lavoro. Innanzitutto mi fa piacere che tu continui a guardare questo video perché significa che hai le idee chiare sul concetto di approfondimento di queste tematiche e desideri trovare una chiave di lettura che per quello che mi riguarda nei volumi esiste, per rendere la parte del trading online, soprattutto nell'intraday, ancora più profittevole. Allora, il grafico che vedi è organizzato per gli strumenti americani, in uno specifico i due strumenti che io seguo con maggiore attenzione sul comparto america che sono il Nasdaq e il CME, naturalmente Future. I grafici che vedi sono della piattaforma Ticker Explorer, che è la piattaforma che ho ideato negli anni, insomma. È un progetto che arriva da lunga data, sul quale ho concentrato tutta la mia attenzione sia da un punto di vista di progettazione che da un punto di vista proprio operativo, perché racchiude al suo interno tutta la conoscenza e la competenza che ho avuto modo di sviluppare, di acquisire, partendo dal mondo istituzionale che è effettivamente la mia scuola di vita. Allora, quello che puoi vedere sono sostanzialmente i miei grafici di lavoro. Tu sai perfettamente che il mio obiettivo è quello di avere dei grafici puliti, dei grafici chiari, senza troppi fronzoli, senza troppe cose psichedeliche, perché ho l'impressione, anzi la sensazione, la certezza che non servano assolutamente a niente. Quindi grafici puliti, senza un'eccessiva quantità di informazioni, quello che vedi è semplicemente l'S&P sulla destra, questo per intenderci a ordini, e nello specifico 5.000 ordini, con l'indicatore di delta volume. Ecco, io utilizzo tantissimo l'indicatore di delta volume, così come utilizzo i livelli chiave per la mia operatività, che sono, partendo dalla formazione grafica, massimi, minimi e midpoint della giornata. Sull'altro grafico vedi una situazione analoga, sempre il Nasdaq a 5.000 ordini, e sotto invece vedi un S&P filtrato. Sul concetto di filtrato, ne ho parlato in tanti video, è un ausilio in più, da un punto di vista operativo, che mi permette di percepire effettivamente se c'è la mano istituzionale, se c'è la mano forte che sta governando, sostenendo e imprimendo forze e direzione al mercato. Questo è un ausilio in più, ovviamente interessantissimo, ti ricordo ancora una volta che il concetto di filtrare gli ordini non significa aggregare, un ordine filtrato è una cosa diversa da un ordine aggregato, e con il grafico filtrato è possibile identificare in maniera veramente precisa quelli che sono gli ordini che colpiscono il denaro o la lettera. In questo caso ho filtrato l'S&P per maggiori 149, quindi prendo ogni singolo ordine che è composto da almeno 150 lotti che colpisce il denaro o la lettera, e ne creo naturalmente la sua formazione grafica a livello visivo, attorno alle candele con i classici istogrammi, piuttosto che il valore del delta e quello che vedi sotto che è il valore del cumulativo. Allora, partiamo con il concetto di aggancio a quello che ci siamo detti la settimana scorsa, del fatto di avere la volatilità non direzionale, mercati che comunque danno la parvenza di muoversi in maniera direzionale con dei trend in 3D, nella realtà dei fatti questi trend in 3D sono formati da tanti movimenti di mercato che sono per la stragrande maggioranza dei trappoloni e questa è una sensazione che mi porta a fare questo video proprio perché in questi giorni sento tante persone che non utilizzano strumenti e chiavi di lettura basate sui volumi che si intrappolano in posizioni strane proprio perché il mercato ti dà quella sensazione e poi nella realtà dei fatti ti va ad accelerare e spesso e volentieri ci si ritrova in posizione contraria. Prima di tutto e senza entrare nei tecnicismi, dei pattern e di tutte queste cosine qui, come puoi vedere il mercato è orribilante, cioè in questi giorni di mercato estivo la mano forte, cioè quella che imprime veramente direzione, trend, tendenza, spinta al mercato, appare o non appare. C'è, non c'è, in determinati momenti puoi scompare e questo è il risultato, nel senso che quando il mercato è governato senza la mano istituzionale che crea, diciamo così, il movimento di fondo, il mercato tende a rimanere in saldo o comunque tende a rimbalzare continuamente tra i suoi livelli. Come ci si ripara da questa cosa qui? Beh, ci si ripara in due modi. E' inutile che stia a dirti tratta con stop più larghi, che peraltro è quello che fa la stragrande maggioranza della gente, perché a forza di stop da una parte e stop dall'altra, si innesca il meccanismo mentale di dire oi, magari mi ha stoppato per 2-3 tic e poi è tornato indietro, alzo, alzo lo stop, allargo lo stop, rischio di più, magari medio, eccetera. No, quello non va fatto, assolutamente, ma va creato una discriminante forte a livello operativo. Come si fa questo? Si fa osservando quella che è la dinamica del mercato. La dinamica del mercato, in questo caso, la puoi vedere partendo anche dalla presenza degli istituzionali, quindi delle mani forti sul mercato. Io in questo grafico, in maniera specifica, ho messo solo ed esclusivamente il grafico odierno, e oggi per i superstiziosi è venerdì 17 e sono le sette e mezza di sera, ho messo questo grafico proprio per mettere in evidenza come la mano istituzionale a un certo punto, a un certo orario, parta e si fermi. Questo è naturalmente sintomo sia della componente estiva che della componente di venerdì. Insomma, ci avviciniamo al weekend, ma vorrei farti osservare come nel momento in cui la mano istituzionale o comunque gli operatori in grado di manipolare il movimento del prezzo siano assenti. Il mercato tende a fare questi movimenti, diciamo così, senza particolare significato. Quindi questi movimenti, questi sciacquoni improvvisi di prezzo, poi tende a riprendere le sue quotazioni e via dicendo. Tutto bello, però andiamo a vedere che cosa c'è di rischio, cioè quanto soldo c'è dentro questi movimenti, perché poi alla fine dei giochi è quello che conta. Andiamo a vedere, per esempio, questa candela. Beh, questa candela ha 275 dollari di rischio, massimo o minimo, quindi nel range. La candela successiva, che è quella delle 19,25, ne ha 187,5. Insomma, comunque è percepibile come, in un contesto di 2500 ordini in questo caso, ci sia comunque effettivamente un range. non sostenuto dalle mani forti, secondo me è evidente. Quindi, ampia oscillazione dei prezzi, ampi range non sostenuti da volume, soprattutto da volume istituzionale. La cosa naturalmente cambia nel momento in cui gli istituzionali o le mani forti del mercato cominciano a entrare e a imprimere la forza nel mercato, imprimere il trend. In questo caso, guarda questo trend che si è stabilito alle 16.36, è stato sostenuto da acquisti, 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 acquisti sui massimi, poi si è fermato e poi è ripresa l'ultima gamba rialzista. Questo ancora una volta per dirti, nel momento in cui osservi il mercato, è fondamentale capire se c'è la presenza degli speculatori istituzionali istituzionali della manoforte, se non c'è la presenza della manoforte, è molto probabile che il mercato entri in questa fase, te la metto in evidenza, entri in questa fase, in questa fase in cui il mercato continua a rimbalzare. Questo l'abbiamo visto ieri, va bene, ieri era la giornata dell'ACB, o BCE, chiamala in italiano come ti pare, ma sempre quello è, quindi una giornata sicuramente particolare dal punto di vista del mercato. Questi contesti di movimento vanno evitati assolutamente, perché sono quelli in cui c'è la maggior probabilità di uscire con delle perdite anche rilevanti, perché poi il cervello innesca tutta una serie di meccanismi e sappiamo tutti come può andare a finire. Come mi difendo io da questo? Semplicemente cerco di selezionare in maniera molto attenta i setup. Setup che naturalmente ci sono con meno frequenza, perché chiaramente il mercato è più lento nei suoi movimenti, ma ci sono. Uno dei setup che io preferisco in assoluto è quello delle rotazioni di delta e qui ne abbiamo una proprio sui minimi. Adesso non voglio mettermi qui a discutere guarda che bella la rotazione di delta, insomma chi mi segue sul mio gruppo sa esattamente come mi comporto con questo tipo di pattern e soprattutto come li tratto. Nello specifico c'era una bellissima rotazione di delta accompagnata peraltro da un movimento che è andato subito a favore e questa è una cosa che naturalmente fa piacere a chi è sul mercato perché ti permette mentalmente di gestire in maniera rapida il tuo stop loss e quindi la componente di rischio dell'operazione e ha fatto il suo movimento direzionandosi sul primo livello oggettivo che è il midpoint che vedi qui tratteggiato per intenderci di giallo è questo qui detto questo anche sugli altri strumenti c'erano naturalmente tante opportunità tante opportunità che però attenzione anche qui è a rischio perché uno dice ma guarda che bello il grafico del Nasdaq si muove piano andiamo a vedere un 5.000 ordini che è mediamente quello che io seguo con più attenzione che cos'è successo su un 5.000 ordini guardiamo questa candela di sfogo alle 17.43 beh insomma ha un rischio comunque di 660 dollari che non sono proprio pochi consideriamo che siamo alle 5.75 di venerdì pomeriggio quindi sicuramente rilevante ecco nello specifico guarda come c'è stata questa spinta sul midpoint immediatamente ricoperta perché i venditori hanno ceduto e questo lo vedi dalla forma del delta volume in questo caso è stato immediatamente ricoperto e il mercato ha reagito naturalmente che cosa succede in questo tipo di pattern chi tratta lavorando contro trend in stop magari sulle candele precedenti eccetera eccetera se non è stato smart sveglio a gestire la posizione velocemente si è trovato probabilmente in difficoltà o lo è ancora visto il movimento di mercato come ci si difende in queste situazioni beh ci si difende innanzitutto applicando una corretta gestione del rischio e una position sizing adeguata all'operazione prestando molta molta attenzione a quella che è la dinamica del prezzo perché se io non mi posso permettere un rischio di 660 dollari che per l'amore del cielo possono essere tanti pochi economicamente rilevanti rilevanti o mentalmente irrilevanti o rilevanti questo dipende dalla percezione dal valore che ognuno di noi dà alla rischiosità di un'operazione ecco che se non me lo posso permettere è tanto inutile star lì a tergiversare a cercare di prendere o di raffinare l'operazione il più possibile se un'operazione offre troppo rischio oppure non offre il rendimento per giustificare il rischio beh a quel punto l'operazione è da scartare questo è un suggerimento che ti do mi raccomando mettilo in opera perché è meglio scartare un'operazione e selezionare bene quello che è un potenziale di mercato piuttosto che trovarsi in una situazione sfavorevole magari con una sensazione di appesantimento oltre che morale mentale psicologica anche economica quindi questa è una condizione particolarissima altro suggerimento che ti do è proprio quello di sfruttare gli orari di negoziazione cioè di non spingerti in orari di negoziazione che siano particolari per esempio mi viene da ricordarti la sessione mattutina o nei momenti in cui il mercato americano va in stallo insomma ci sono degli orari di negoziazione ben precisi che vanno rispettati e il mercato va rispettato per questo perché noi dobbiamo io per primo tu tutti quelli che sono sul mercato devono imparare a sfruttare dobbiamo imparare a sfruttare quelle che sono le opportunità che il mercato ti dà perché se il mercato ti dà un'opportunità va presa se il mercato è come in questo momento che non non sta sviluppando l'opportunità di movimento è tanto inutile star qui a passare le ore a guardare un grafico che si muove da una parte all'altra è un po' insensato bene io con questo video del venerdì spero di di averti illuminato un po' su quelle che sono le caratteristiche innanzitutto della piattaforma Ticker Explorer che voglio dire lavora in maniera precisa sui volumi e mastica volumi dalla mattina alla sera in maniera assolutamente perfetta e rilevante e dall'altra parte spero di averti dato qualche consiglio qualche spunto qualche suggerimento su come muoverti effettivamente nei mercati estivi perché se sei ancora qui e non sei sotto l'ombrellone insomma hai a che fare anche tu con questo tipo di movimenti e sono sicuro che potrai trarre beneficio e vantaggio da quelle che sono le mie osservazioni quindi ti saluto ti rimando al prossimo video ricordati di mettere un mi piace se hai apprezzato questo video di iscriverti al canale perché è importante per essere aggiornato sugli ultimi video e sulle novità buon proseguimento e a questo punto un buon weekend da Marcello alla prossima